Benvenuti guardiani in un nuovo video questa volta su Overwatch, una live commentary perché mi avete consigliato di utilizzare il soldato In primissima mi avete consigliato il Reaper, infatti nel mio ultimo video utilizzo il Reaper con due o tre partitelle se non erro Poi mi avete consigliato il soldato, quindi sono qui a testare il soldato, questa volta però come potete vedere dalla mia faccia il live commentary con la webcam Ragazzi vi devo dire una piccolissima cosa prima di iniziare il video, ovvero abbiamo creato questa nuova pagina ovvero Overwatch Italia Lega degli Eroi, vi invito a lasciare tanti pollici inalzati, troverete foto divertenti, video, compilation, news eccetera eccetera Trovate tutto là e il link è in descrizione, iniziamo il video! Io direi che possiamo andare da questa parte, tanto la vita ce l'abbiamo, i nostri compagni stanno tutti qua, anche il caro Lollo Chiamatelo Ikan Lollo perché se lo pronunciate in altre maniere dopo si arrabbia E... in quanto uno gli abbiamo fatto 11 di danno, ce l'ha contata come uccisione Il bello di questo gioco è che magari tu fai 3000 kill però a te conta anche quelle... no questa l'abbiamo preso in pieno Tutti qua, tutti qua... tutti qua pronti a comando... oh il Reaper via fuggi 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 Cazzo ogni volta quando laggo per... fa una roba la devo premere 7 volte Il Reaper è esploso E abbiamo fatto 1 di danno invece a SCX e una serie di 10 uccisioni, non male devo dire Serie di 5 e 17 di danno, quello è volato via Ma adesso muore Ma adesso muore Quanto lo odio quel cazzo di robottino di merda 5 di danno e poi ho eliminato... non so se era la torre... ah no il Mac si L'Apple 8 di danno, stiamo facendo dei danni impressionanti, ci contano delle kill con dei danni pazzeschi proprio Prendiamo il punto, sennò qui siamo nella merda e ora arriveranno tutti quanti Scorta il carico, ecco appunto stanno arrivando, è ritornato il robot di... Questa sta facendo avanti e indietro e alla fine muore Io non capisco i tank che vanno in giro per cazzi loro senza nessuno che gli sta dietro, nessuno che lo cura, nessuno che gli guarda il culo Vanno avanti e giro un minuto e muoiono E intanto noi appunto abbiamo le cure, no i danni di The Zex Bomb Che ci sta dietro, quel cazzo di medico stava per morire Ora mi sta facendo le cure, ora di nuovi danni Lo becchiamo questo qui oppure gli ci ronzoliamo un torre, arrivato via Fuggi, 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 Zex, fuggi Chissà se l'ha preso, no Ancora danni? Quanto è bello avere un compagno di scuola che ti sta sempre a fianco al tuo culetto con le cure o i danni M'ha preso, m'ha preso, m'ha preso, m'ha preso Cura, cura, fuggi Prendiamo la vita, questo va avanti e indietro come sempre No, quanto odio quello che ti ghiaccia, però è morto, 54, via Morto, è morto, abbiamo un altro soldato Guarda quelli Torretta e tank che gli fa lo scudo Adesso, 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 adesso Adesso che non c'è il tank Adesso che non c'è il tank Distrutto Distrutto, ora possiamo andare che non c'è più la torretta prima che ne costruisci un'altra Manca un minuto Ok, vai di super e distruggiamo, questo non mi prenderà sicuramente No, sì Ma preso, ma non mi uccide, mi prende ma non mi uccide Perfetto, due tank c'hanno sti stronzi, più la torretta Mi riprende ma non mi uccide Mi scappo, andiamo a prendere la vita Ciao Gicco Guarda questi, si piazzano lì con lo scudo e la torretta Ma come, doppio, doppio scudo, non c'è credo Un altro Tre tank più torretta Se non erro, ho due tank più torretta No, tre perché c'è pure quello che ti prende nelle chiappe 28 secondi abbiamo preso Rieccolo questo e fa in giro da solo Intanto serie da 5 Serie da 5 Oppi Serie da 5, doppio tank, ecco lì laggiù Tutti e due con gli scudi Che in teoria non so a cosa gli servono tutti i tank senza nessuno che ci faranno Perché noi andiamo tranquillamente a prendere il punto senza alcun problema Infatti ecco tutti qua La torretta, ancora maledetta torretta Fammi a posto Cioè hanno tre tank e una torretta Non ho capito come vogliono vincere questi stronzi Curiamoci e poi andiamo di super, vai Pesantemente proprio Pesantemente Eccolo uno Uh, morto Eccolo un altro E' morto pure lui Due tank uccisi con una super Ora c'è il robot qui che sta per esplodere Ma lei è uscita Tanto la prendiamo Sì è morta E' morta Pozze di cura a go go del soldato Mamma che Che setup di gaming E' serie da 8 uccisioni Siamo fermati qua La pozza di cura e andiamo qua Che tanto troveremo sicuramente Eeeh il medico Eeeh il medico L'ha fatto torna in vita cazzo Ha fatto torna in vita il tank Dai che lo distruggiamo Dai che lo distruggiamo Si è fatto la bolla ma muore Stordito Oh volato via Ma l'abbiamo ammazzato uno Puzza E do Serie di 5 Bella questa mi è piaciuta Mi è piaciuta Questa sicuramente finirà Nel Eccola Azione migliore E lo sapevo Con il mio caro soldato Mi fa Praticamente mi schianta via Lo video da super Mi schianta via Ammazzo quello Ammazzo quell'altro E via Serie da 5 fatta Via Babam Ragazzi il video termina qua Io vi invito a guardare I miei ultimi due video Che trovate appunto In queste schermate qua sopra Lasciare un pollicino alzato Un polvere qua sotto E di mettere mi piace Mi raccomando La pagina facebook Nuovissima Overwatch Italia Lega degli eroi La trovate su facebook E un link qua sotto In descrizione Quali morti Bella per tutti Buon ragazzo guardiani Grazie a tutti